La sindaca di una località situata nel nord Italia dichiara guerra ai rumeni abitanti in zona dopo un incidente successo qualche giorno fa. Anna Maria Cisint posta su Facebook un messaggio del quale dice si comportano come degli animali. In questo messaggio la sindaca dice che i rumeni non sono benvenuti nella città che lei amministra e che sarebbe meglio se tornassero a casa loro, citando l'articolo pubblicato su ilfriuli.it. L'incidente che ha acceso la furia del sindaco è accaduto l'8 ottobre quando sei cittadini identificati dalla polizia, quali cittadini rumeni residenti a Marina Iulia, Monfalcone, in provincia di Gorizia, hanno iniziato una rissa in un luogo dove solitamente si fanno picnic nelle vicinanze dei parcheggi dopo aver mangiato e bevuto e lasciato dietro di loro gli involucri delle confezioni del cibo e delle stesse bevande. La rissa è stata molto seria perché due delle persone che si sono picchiate sono finite in ospedale, una delle quali un maschio in situazione grave. Al momento della rissa è stato spaccato anche del vetro. Subito dopo l'incidente Anna Maria Cisinta ha scritto per l'appunto un messaggio molto duro su Facebook verso i rumeni. Poi il sito riporta e la posta integralmente. Il sindaco Anna Maria Cisinta ha scritto questo postando anche la foto del luogo dell'incidente. Il sito della TV rumena ha rimarcato di nuovo il concetto quando l'identificazione sarà ufficiale attiverò qualsiasi strumento consentito dalla legge e compresa la denuncia. Nel caso si tratterà di un caso penale, l'amministrazione comunale si costituirà parte civile e chiederà comunque i danni. Chiederò anche alle aziende dove lavorano queste persone che si assumono la responsabilità dell'intervento per ripristinare l'area ad eventuali danni. Il sindaco di Monfalcone chiede che vengano prese misure di sicurezza per tutte quelle persone che vengono qui per lavorare ma che non si comportano come animali. Mi auguro anche che le aziende che li hanno assunti provvedano a controllarli. Non posso sporcare la città che li accoglie, devono andare a casa loro.